benvenuti in questo nuovo video oggi faremo un video un po diverso rispetto alle altre volte perché mi sono accorto che il più delle volte mancava un video recensivo per questo punto di vista per questa questa cosina molto particolare in inglese in altre lingue ce ne sono tantissimi ma in italiano mancava di cosa sto parlando sto parlando del back un comunissimo back che ora vi mostrerò come avviene l'installazione e principalmente qual è la sua funzione intanto prima di cominciare volevo ringraziare il caro e il boss diciamo io penso a mio modesto avviso la persona più preparata dal punto di vista di scaler in italia quindi il grande mattia desiderio di blocca tutto racing channel vi invito anche ad andare a passare sul suo canale allora qui abbiamo un veicolo che se non erro arriva anche dalle loro scuderie questo veicolo dove si può inquadrare a un elettronica una quick run 1060 e sicuramente ha bisogno di un po di aiuto non che vada male per l'amor del cielo però se riusciamo a dare un voltaggio ulteriore alla ricevente perché no potrebbe venire ancora meglio io ora vi faccio vedere un attimo il back che sono qui comunissimi back poi ci mancherebbe ci sono back che hanno un valore maggiore ma questo qui è quello classico diciamo quello che quello che usano tutti poi alla fine che è questo qui dovrebbe costare non mi ricordo ora 7 8 euro su amazon ecco qui il classico il classico back che va installato dove dove deve andare in maniera molto molto semplice ora vi farò vedere tutto va bene io poi metterò delle pause nel modo che vi farò vedere solo le parti che vi interessano mettiamoci subito al lavoro sarà dura a tra poco allora qual è la cosa interessante vedere prima come si comporta l'auto soprattutto il servo ora lo vedremo insieme prima di fare questo questo piccolo upgrade che comunque darà i suoi vantaggi sicuramente qui volendo non avendo una carrozza in abs avrei potuto farne a meno però avendo un una quick run 1060 quindi non già una 1080 che comunque da già i suoi vantaggi di default sicuramente noi gli andiamo a dare un piccolo spunto in più al servo questo è il servo vedete come si comporta prima della dell'installazione dell'ubec vedete è un servo che comunque si più o meno comporta bene però voi ricordatevi bene questo tipo di movimento dopo vedremo se andremo a migliorare va bene ci vediamo tra poco allora come vi dicevo prima voi vedete che ovviamente la ricevente è alimentata dall'elettronica quindi l'elettronica ecco qui il cavo che facciamo lo seguiamo tutto vedete va qui noi la cosa che dobbiamo fare è quello di staccare il cavo rosso dobbiamo soltanto pelarlo ma in modo che magari in un futuro lo volessimo riagganciare dobbiamo avere questa possibilità quindi lo taglieremo a questa altezza entrambi i cavi che restano staccati li ricopriremo con della guaina termorestringente in questo modo ovviamente non faranno contatto per cui come andrà il tutto collegato quindi qui peliamo questo il lubec andrà in questo canale libero della ricevente e andrà a prendere direttamente l'energia dai cavi dal cavo della batteria quindi andremo a fare una una saldatura qui in modo che abbiamo tutta come dire l'energia che vogliamo da dare al lubec allora prendiamo il filo rosso dell'elettronica e lo stacchiamo lo peliamo un po' facciamo così ora prendiamo una bella termorestringente e nulla facciamo in una maniera molto molto semplice ne facciamo due una qui mi raccomando lasciate sempre che resti un po' di spazio sopra quindi non lo fate giusto a giusta misura perché altrimenti potrebbe far contatto ok con il dito quando è caldo premete così in questo modo si chiude ermeticamente mi raccomando aspettate prima non fate come me perché vi bruciate questo vedete un po' troppo corto non so se si vede bene quindi noi cosa facciamo lo portiamo un pochino più in avanti aspettate un pochino tac ecco qua vedete chiusi ermeticamente allora abbiamo fatto un accrocro così quindi vedete back qui il positivo l'abbiamo ovviamente saldato sul cavo positivo dell'esc ora saliamo il la termorestringente e lo stringiamo ora lo facciamo direttamente qui al nero se ci riesco ok e il nero è stringo ora faremo lo stesso per il rosso abbiamo finito abbiamo ultimato e stringo anche le termorestringenti ho un lieve problema che potrebbe essere la batteria che è in storage quindi il servo richiede molto molto voltaggio e mi va in protezione probabilmente questo poi comunque vi via via vi aggiornerò comunque la velocità all'incirca questa qui quindi comunque una una bella una bella velocità rispetto a prima come avete potuto vedere sicuramente è un'ottima alternativa ora quello che avete visto voi è sicuramente esclusivamente una piccola prova ci sono delle degli esk molto più performanti ripeto come la quick run 1080 oppure degli ubeck molto più performanti diciamo quelli più comuni dove si va su aliexpress su su amazon escono questi qui finché funzionano vanno 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 benissimo poi per altre cose un po più performanti e durature nel tempo ce ne sono anche anche di migliori se avete apprezzato il video mi raccomando lasciate un like iscrivetevi al canale per qualsiasi cosa potete scrivere giù nei commenti ciao a tutti